... Piatti Fondi è la nostra webseries e la webseries parla di 4 coinquilini che si sfideranno in cucina su chi è tra di loro... ... ... Piatti Fondi è una webseries la nostra webseries che parla di 4 coinquilini che si sfideranno in cucina per decidere chi tra di loro è il miglior cuoco i 4 protagonisti sono Peppe che sarei io che è uno studente di filosofia che si sta occupando di cucina araba trascendentale poi c'è Davide che è uno studente di architettura con la passione per il fumetto che in realtà è quello che in casa non sa cucinare e quindi sarà lui l'arbitro della sfida c'è poi Luca questo disadattato che si porta dietro questa storia d'amore dal paese un amante assoluto della cucina grassa più c'è oro e più lui è contento e poi c'è Marco studia design in un'accademia privata e va male che ha fatto queste lezioni di finger food di novel cuisine critica culinaria e crede che così possa possa conquistare i palati più fini si accenderà la sfida si accenderanno le storie di questi 4 personaggi succederanno delle cose che non vi diciamo perché se no non ha senso farla tutta quindi la raccontiamo ed è finita però la cosa importante è che forse dopo molto probabilmente si lavorerà su far ritornare questi 4 protagonisti nella loro pace e casalinga torneranno ad essere un po' molto probabilmente d'amore d'accordo che dici? stavo facendo sta cosa di finanziamento ma ti disturbo? si ma già hai fatto ma stasera mangi? mangi stasera però sono le 4 forse per sapere se devo fare la spesa che poi non mi va di scendere scendiamo insieme però se mi fai finire di fare questa cosa che è importante se fate la spesa mi comprate un po' di uomo a finire si io faccio io dopo la spesa se mi fate finire di fare questa cosa che stai facendo? finanziamento online è una cosa si chiama tipo crowfunding ti serve aiuto? no se mi scrivo aiuto l'avrei chiamato a tutti ti aiuto? no non ne voglio aiuto sto facendo una cosa si vuoi dare ma certo però mi fai finire di fare questa cosa che è importante devo spiegare come ci sarebbe un nostro contributo comprare delle cose delle luci del proprio non so camminare la scena si però ho capito che stai entrando nel personaggio mi piace questa cosa che ci stai lavorando però cortesemente magico i conflux crudi anche tu mi cuoci scusa ah fate serve crown e non mi chiamate? cosa ha detto? self-honey come era self-honey ah ok si si parte il fatto che lo stiamo facendo io e Lorenzo che stanno facendo una sorta di intervista seria e io ve lo faccio io sono l'uomo chiamato economia eh sei buono io le studio queste cose non credo le studi ma se credo beh il segreto sta nel pubblico femminile te sei morto eh il pubblico femminile si ho capito il pubblico femminile però va spiegata seriamente l'importante non è quello che si vende ma il modo lo vendi allora signori e signore signore e signore io sono morto gentile pubblico femminile allora ma non ti sembra che stai esagerando? no gentile pubblico femminile si inizia così perché tu accattivi si inizia così appunto eh allora gentile pubblico femminile siamo qui pensavo di fare un'intervista seria io spiegavo queste cose ed era tutto molto più noi cerchiamo di darti una mano perché te sennò da solo non ce la fai eh se ti spiegavi in maniera semplice allora signore e pubblico femminile siamo qui per chiedervi un contributo economico e e anche spirituale perché anche spirituale no economico un pubblico e poi io ho anche pensato che si potrebbe fare anche un incontro fra noi e le donne che voressero grazie incontro con le donne no con gli attori eh io non ho una cosa è una camera una camera di una camera si tratta di fare un'intervista seria stavo facendo un'intervista seria stavo spiegando le cose i 4 pendigli ma che abbiamo distruppato si mi avete distruppato ma ci vuole scusa non l'abbiamo mi fregato a porta posso andare no che no ho tutto se ve ne andate no facciamo che Peppe Peppe mi dice come te no no vabbè io me ne vado no vabbè aspero guarda quanto vuole arrabbiare così vabbè aspero gentile e pubblico famiglia no gentile e pubblico per me non vabbè fate la sua bene andate per piacere tutti i passi fate la sua una cosa seria stavo facendo e che abbiamo ma in attimo la Lorenzo 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 stavo